www.gmail.com Noi ci vediamo. www.gds.it www.gds.it Poi va sulla pagina Catania Domani GDS? Giornale di Sicilia Poi va sulla pagina Poi va sulla pagina Poi va sulla pagina Poi va sulla pagina Poi è una pagina Poi ci vedi Sì, è solo il mio appasso e abbiamo utilizzato proprio il mio appasso. Ah! Vai! Oh! Non l'ha fatto? Certo! Certo! Allora, però... Certo! Oh! 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 Quando io penso... Da adesso è più bassa del mio! Eh! Vedete che stanno andando avanti... ...seglie verso la mia scena! Il suo seguito è attrizio le piante... ...dai ce la scelta bassa! Quindi basta qui! C'è un'altra... ...a me pretendo che non è questa... ...però non la venite a subvedere... ...che' se tu mi veni su qua... Sobra! Grazie. 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 Grazie.